Porto Empedocle in corteo questo pomeriggio con a fianco la CGL per dar voce in forma ai democratiche e civili al disagio montante che vietra la popolazione che vive sulla propria pelle il prezzo della crisi e della disoccupazione. Ma soprattutto ciò a cui i cittadini hanno dato voce è stata la richiesta di una maggiore attenzione per una trasparenza assoluta nelle procedure di selezione dei lavoratori dal momento in cui avranno inizio i lavori del rigastificatore. Certo saranno tanti i lavoratori chiamati a contribuire attraverso il loro lavoro alla costruzione del rigastificatore cominceranno i lavoratori dell'edilizia insieme a quelli dei trasporti poi ci saranno quelli per la costruzione del rigastificatore in quanto tale e poi quelli per farlo funzionare. Insomma a questi grandi numeri la domanda che è venuta alla nostra Camera del Lavoro da parte degli Empedocle disoccupati è proprio trasparenza nel reclutamento ed è quello che noi riventichiamo insieme alle richieste che faremo al Sindaco di conoscere quali sono state, qual è l'accordo con ELEL sotto le misure della compensazione economica e di questi soldi quanti ne sono arrivati, come verranno spesi. Perché è solo la CGL che sta appoggiando questi lavoratori? Perché sono venuti spontaneamente più di 100 persone, ne hanno firmate 350 e sono venuti nei nostri uffici dunque la CGL ha il compito di evitare che le persone disperate possano andare oltre e perciò rischiare in prima persona la CGL è un contenitore riconosciuto dallo Stato italiano. Dopo aver attraversato le vie principali della città marinare manifestanti hanno raggiunto il Palazzo Città dove ad attenderli c'è il primo cittadino Calogero Firetto che si è dimostrato disponibile a qualsiasi forma di dialogo per operare nell'interesse dei cittadini. Questa manifestazione conferma che i cittadini vogliono il riclassificatore a Porto Empedocle ma che vogliono pure essere coinvolti in questo grande progetto. È proprio così ed è un inequivocabile indizio che parte da questa città che ha una sua storia di movimento e anche un'anima reazionaria rispetto a certi cliché. Se qualcuno aveva qualche dubbio questa manifestazione così pure l'elezione se mi si passi la possibilità che ha avuto il sottoscritto con un'elezione così plebiscitaria sono due indizi inequivocabili che qui la gente del riclassificatore lo vuole vuole che inizi presto ed è per questo che abbiamo già da venerdì scorso indirizzato una nota ufficiale all'azienda e anche al ministro dell'industria perché i lavori si inizino subito e si dia corso a quel protocollo che il comune ha sottoscritto con Enel Nuove Energie in tema non solo di protocollo di legalità che è stato fatto in prefettura alla nostra presenza e quindi di trasparenza, si dia la possibilità all'imprenditoria locale di avere un suo ruolo in questa costruzione e si dia la possibilità soprattutto ai lavoratori empedoclini a parità di professionalità di poter trovare una linea preferenziale rispetto alle assunzioni. Un mediatore civico europeo ha iniziato un'indagine sul riclassificatore di Porto Empedocle a seguito delle denunce sollevate da associazioni agrigentine. Sono di quelle iniziative dilatorie tendenti a dire no al riclassificatore oramai l'ultimo grado del giudizio poiché era pendente un giudizio in sede amministrativa l'ultimo grado del giudizio si è chiuso al Consiglio di Stato nell'anno del Signore 2011 dopodiché ognuno può fare denunze alla Corte Europea al Tribunale dei Diritti del Malato alla giuria del Festival di Sanremo è libero di poterlo fare ma ciò che è di certo è che oramai il riclassificatore non ha più ingombri burocratici. Sembrerebbe dunque un terreno fertile pronto ad ospitare una nuova era quello che si sta preparando a Porto Empedocle e che potrebbe dare una svolta decisiva ai problemi della disoccupazione.